Nelle nostre spalle, accompagnato da Mr. Montella, dal suo staff, l'intera rosa della Ferentina, mi chiamiamo uno per uno, ci sono Luca Lezzerini, portieri, Cristiano Lupatelli, Norberto Murara Neto, il Siprian Tatarusano, Marco Salonso, Michele Camporese, Mattia Cassani, Marvin Copper, Gonzalo Rodriguez, Amede Gatti, Manuel Pasquale, Cristiano Piccini, Stevan Savic, Facundo Roncaglia, stanno arrivando e si distribuiscono sui due lati, perché sono infiniti praticamente, sono ben 34 in ritiro, Marco Bacic, Borca Valero, Bernardo Gabbenzi, naturalmente Matu Fernandez, Jaco Venko, Isicic, Joachim, Lazzari, Tavio Manteca, Petriccione, Vargas e Forschi, che pian piano continuano a prendere posto, Acco Spi, Gabbacanti, non è qui ma arriverà in ritiro, Kumail Babacar, Leo Velec, Enrico Bernardeschi, Mario Gomez, Matos Rieber e Giuseppe Tepito, Rossi, tutti qui nella piazza di Moena, un grande applauso per la squadra. Ringrazio anche Mastina dei Monti Palleri e Gianluigi Donei, partiamo subito.